4 giorni all'insegna del digitale, esperti in materia, ospiti prestigiosi, rappresentanti delle istituzioni e l'immancabile cornice mondana. Ma soprattutto loro, le 100 start-up pronte a contendersi la vittoria finale e i numerosi premi offerti dai partner. Tutto questo è Digiton 2018, la maratona delle idee digitali, promossa a 4 anni orsono dall'onorevole Francesco Boccia e inaugurata ieri sera in Largo Castello a Biceglie. Questo è il terzo anno della maratona, cioè della gara, quest'anno abbiamo avuto un sacco di domande. Sarà una bella gara anche quest'anno, voglio dire ai ragazzi che uno vincerà altri sei, quest'anno ci sono sette premi addirittura, quindi saranno sei premiati, ci sono tanti premi. Però tutti gli altri ci consentiranno di dimostrare che anche se l'Italia e l'Europa hanno perso la partita di questi vent'anni nel digitale con gli Stati Uniti, Cina e Russia soprattutto, io penso che se continuiamo a credere in loro, secondo me nel giro di qualche anno recuperiamo il tempo perso. E Digiton può dare una mano al paese a questo punto di vista, al di là della maratona, della competizione, dei premi e delle cose belle che ci diremo in questa sera. La serata d'apertura ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Gianmarco Centinaio, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, che si è soffermato sui temi politici di maggiore attualità. Il contest vero e proprio invece ha preso il via questa mattina alle vecchie segherie in Mastro Totaro e proseguirà fino a domenica, giorno della premiazione. Grande attesa per Giuseppe Conte, in visita domattina agli oltre 300 giovani inventor arrivati da tutta Italia per presentare le proprie idee di business, come pure per Luigi Di Maio, che domani sera salirà sul palco per parlare di sviluppo e lavoro al tempo del digitale. È la prima volta che Biceglie ospita un premier nell'esercizio delle sue funzioni. Sabato sarà presente e lo ringrazio molto, ho già ringraziato privatamente, lo farò pubblicamente sabato, perché per noi è un privilegio che il Presidente del Consiglio possa benedire con la sua presenza questo lavoro straordinario che fanno soprattutto i ragazzi. Il vincitore di Digiton 2018, decretato attraverso il voto online del Comitato Scientifico, riceverà un assegno di 10.000 euro messo a disposizione da Confindustria BariBat.